Ciao ragazzi, sono Albis Andrè e queste sono le mie scelte per Irones Sneaker Talk. Dal punto di vista della comodità, ho scelto sempre un paio di Paul George, le Paul George 4. Visto che mi ero trovata bene col modello precedente, ho voluto provare quello successivo. E devo dire appunto che sono una scarpa molto comoda, molto adattabile al piede, infatti sono riuscita ad utilizzarla sin dal primo giorno. Dal punto di vista affettivo, ho voluto scegliere questo paio di Paul George 3, che per me sono delle scarpe molto importanti, perché sono quelle che ho utilizzato l'estate scorsa al mio primo europeo senior. Ho voluto personalizzarle, e quindi mettendo i colori della bandiera, e mettendo anche il colore della maglietta azzurra, in modo tale che ogni volta che le vedessi potessi ricordare questo bellissimo momento. Dal punto di vista della bellezza, ho scelto come scarpa una scarpa lifestyle, una scarpa da tutti i giorni, e ho scelto un paio di Jordan Retro 1. Ho scelto questo paio di scarpe perché innanzitutto il modello è tra quelli che mi piace di più. Penso che sia una scarpa oltre che sportiva, anche elegante, e fatta con questo abbinamento di colori, secondo me merita tanto. Penso che sia una scarpa oltre che mi piace di più, Penso che sia una scarpa oltre che mi piace di più,